Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato 9 persone coinvolte in episodi che si sono verificati nel corso della partita di calcio Bari-Foggia. Nei confronti dei 9 tifosi 6 del Foggia e 3 del Bari sono stati adottati anche provvedimenti amministrativi di Daspo per un periodo di 3 anni. Gli episodi riguardano il fitto lancio di oggetti, compresi petardi, che si è verificato subito dopo il gol che ha sancito la vittoria del Bari per 1-0 nel corso della partita disputata lo scorso 26 novembre nello stadio San Nicola. In particolare un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi del Foggia è esploso vicino uno steward che ha arginato il tentativo di alcuni tifosi del Bari di avvicinarsi al settore ospiti per provocare i tifosi foggiani procurandogli ferite. Personale della Digos di Bari con la collaborazione della Digos di Foggia e con l'ausilio tecnico della Polizia Scientifica, attraverso l'esame delle videoripresse effettuate dal personale dall'impianto di videosorveglianza dello stadio San Nicola, ha identificato alcuni dei presunti responsabili degli episodi. Sono stati quindi segnalati all'autorità giudiziaria a vario titolo le nuove persone che dovranno rispondere dei reati di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, violenze e minacce nei confronti degli steward, possesso e utilizzo di artifici durante le manifestazioni sportive e lesioni personali. Grazie.